L'ultimo brano proposto dall'orchestra dell'Istituto Compensivo Leonetti, e questo è un progetto di binario classico che è Maria Villa. Il ciclo scritto è presentato dal cantatore canalezi e Leonardo Di Morochi nel 1904. Del brano ci si raccomanderebbe il povere a propria casa, in bocchina di grande crisi per spegnare l'arrivo con il poverso generale. Presentato da ciò nel 1904. Il brano fa parte di numeri del colore cinematografico e film. La versione in serie del brano coppia di molti incrementi di stipendici dell'antico di Scamassico. Una seconda versione delle canzoni fu inciso dal Pino nel 1908 e il tempo è indicato all'età Punti Online nel 1904. Invece di utilizzare il mio sangue, il sangue è un ottimo art, i nomi dalla maggior parte dei mani, manda questo sangue. Canta e ritorno al balzo. Come sto? Come sto? Come sto? Come sto? Come sto? Come sto? Come sto?